La tua classe è una piccola città di una ventina di abitanti, guidata dalla prof, che detta le regole, dice cosa bisogna fare, dà buoni voti a chi fa bene i compiti, punisce che arriva in ritardo o non si comporta bene. Insomma, la prof ha il compito di far rispettare la legge. Mettiamo il caso che un giorno uno studente, chiamiamolo Luca, si presenta e ti ordina. Dammi tutti i soldi che hai, meglio per te. Non è giusto. Allora tu vai dalla prof per farti difendere. E lei ne dice quattro a Luca. Luca ci riprova. Tu torni dalla prof che, a questo punto, porta Luca in presidenza. Il preside lo sospende per una settimana dalla scuola. È stata applicata la legge e tu sei stato difeso giustamente. Mettiamo invece che tu non vada dalla prof, ma spaventato gli dia i tuoi 5 euro. E tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso. Tutti, tranne una. Chiamiamo tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso. E tutti, chiamiamo Giuliana. Lei non ha paura. Non paga. Ma un giorno Luca, che è astuto e vendicativo, le lega le stringhe delle scarpe senza che nessuno lo veda. E Giuliana? cade rovinosamente giù per le scale. Luca dovrebbe essere punito. Ma la prof non può farlo, perché non sa cosa sia accaduto. E chi lo sa, sta zitto per paura. Così Luca può continuare a mettersi in tasca i soldi non suoi. Il risultato è che nella tua classe ora esistono due leggi. Quella giusta, della prof, l'unica che dovrebbe valere. E quella di Luca, illegale, la legge del più forte. La giustizia di Luca si alimenta di paura e di silenzio. Pensa prima di tacere. Grazie.